Ciao, sono Edoardo Molinari, membro europeo e amico dell'Italia e del golf. Il mio preferito è Asiago, perché c'è un buon golf course, c'è un hotel molto bello con un spa, quindi potrò praticare il mio golf e rilassare un po' con la famiglia. Il mio preferito paio per visitare è Florence, perché ha tantissima storia come Roma, ma è un po' meno caotica e la città è meglio. La città è una città di Roma, perché è il più storico in Italia e c'è molti diversi paesi che puoi andare a andare a lavorare. La città è una città di Roma, perché è il più storico in Italia e c'è molti paesi che puoi andare a andare a lavorare. La città è una città di Roma, che è vicino al golf course, e c'è anche il palazzo Royal in Monza, che è stato uno dei palazzi della famiglia della città di Roma, e è molto bello. Il mio preferito italiano è Tortellini con crema e ham. Tortellini è simile a ravioli, è una piccola pasta con carne. Il mio preferito paio per andare a andare a andare a andare a lavorare in Bologna o Modena, perché è quello che si arriva, e sono speciali qui. Il mio preferito paio per andare a lavorare in Torino, perché dovresti comprare una città di tartare, che è come la città di ravioli, con un po' di egg e un po' di pepella, e questo è proprio la specialità qui è molto bello. Grazie. 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 Grazie a tutti.